quindi di qua niente provo ad andare ancora su vediamo dai non posso perdere mezz'ora qui su di là sono già andato di là e dove cazzo e ho capito che si va giù di qua bene ah ok da di qua lo a no era niente niente al burrone è l'unico posto riproviamoci magari non l'ho vista oh finalmente un po di fiorellini di qua magari no di qua c'è solo un'alterazione delle text qui da qualche parte solo che se io cado da qua mi mi sfracello proprio ci sarà un'entrata da qualche parte ci sarà per forza forza proviamo andare di qua e poi non c'è non ci salto quindi niente da dove cazzo si va ah guarda qui guarda cosa ho visto ma guarda qui ma pensa a te ma pensa a te una fessurina una roba cioè si vede molto devo dire mi fa totalmente bene eccola la accidenti non ci arrivo forse il nonno può dirmi come fare no veramente ma devo tornare dal nonno ma porca di quella puttana oh ecco c'è casa dolce casa vai nonno il nonno è ancora fuori sono sicura che mi ha lasciato un messaggio eccola qua il nonno mi ha scritto carai sono andato a cercare le piante per il dottor rebù mi trovi al burrone ma qui una presa per il culo dai su secondo su seconda storia una presa per il culo ogni tanto si nota qualche piccolo laggettuccio qualche piccolo rallentamento perché il gioco va a 220 fps però non c'è la sincronizzazione verticale e quindi ogni tanto cala di brutto non capisco il motivo quindi a volte scende quegli fps in più perché 200 sono tanti scende magari non so a 150 e sembra che laggi nonostante siano tanti ma sti massi non c'erano prima ma dai ma che cazzo è sta roba adesso nonno tutto bene? insomma una valanga mi ha tagliato la strada e mi sono fatto male al ginocchio ma sei un rottame quel tronchetto sottile sorregge un intero mucchio di pietre per liberarlo bisognerebbe arrampicarsi lungo quella cresta ripida ma è troppo pericoloso e va bene non ho altra scelta ora ascoltami attentamente puoi arrampicarti lungo le pareti rocciose che sono contrassegnate da un simbolo per farlo premi il tasto invio a volte Heidi perde l'equilibrio per evitare che cada usa le frecce direzionali per tenere l'indicatore in basso all'interno dell'area verde questo la voglio proprio vedere guarda questa la voglio proprio vedere allora ma scusa ma ma scusa ha tagliato la strada ma può passare da di là ma è un deficiente sto nonno allora questo la voglio proprio vedere cazzo no volevo già che si fosse sfraccellata al suo ma non ho capito sinceramente no 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 dove cazzo son finito adesso guardate se sto figlio di puttana di un nonno poteva andare lì ok allora ci riproviamo che non ho capito però le frecce direzionali ma come riprovo a ripremerle e vedi che non va non ho mica capito provo a premere ah forse no ma no no provo a premere in giù vediamo continuamente premere eh no ma che cazzo dai non cadere di nuovo che se no ti abbandono ah forse aspetta no 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 guardate se bisogna star qua a penare per non capisco prova a farmelo rispiegare vediamo se c'è ancora la spiegazione eh ma non va non va non capisco in che senso premendo su giù destra scusa non provo a fare ah ecco eh no non capisco provo provo a premere giù tante volte l'ho già fatto provo su vediamo no non capisco non va non va non capisco io provo a premere tutti tutti i tasti tutti eh no niente non so cosa no via e ora si riprova fanculo fanculo ma qua forse aspetta c'è un e se accado qua ma guarda te vai vai imbrogliamo si ora però torna indietro no dai proviamo a vedere magari ah vedi adesso va adesso funziona perché prima no ah fanculo ben fatto oh oh il mio ginocchio povero nonno che ne dici se cerco io le piante per il dottore così tu puoi tornare alla baita buona idea una delle due piante cresce sui pendii ripidi l'altra sui prati alpini entrambe si riconoscono facilmente non puoi sbagliarti non mi ha detto un cazzo di come sono cosa sono e tutto e riconoscerai però no quello si è formato così ok ora voglio vedere quella voglio vedere quello ripido la adesso eh voglio vedere lì voglio vedere adesso quante bestemmie lì 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 Grazie.